Siamo in un ciclo di incontri sul territorio per presentare le opportunità del PSR Marche per questo territorio così gravemente colpito dal sisma. Cosa andremo a presentare oggi? Presentiamo una serie di misure che sono calate proprio sul territorio colpito dal sisma, in particolare io avrò un piacere di presentare quelle che sono le misure per la viabilità rurale e per le filiere che in qualche maniera tendono a dare impulso allo sviluppo, alla ripresa per lo sviluppo di questo territorio che chiaramente ha bisogno di energie e risorse finanziarie. Speriamo che questo colpisca nel segno perché dopo due anni abbondanti dal sisma qualche segnale positivo sicuramente metterà buon umore a questo territorio. Che cosa si intende per viabilità rurale? La viabilità rurale per definizione da programma di sviluppo rurale è una viabilità che interessa principalmente è a servizio dei terreni agricoli o dei terreni boscati, quindi l'interpretazione dal punto di vista della classificazione stradale è tutta quella viabilità di uso pubblico, di tipo privatistico oppure interpoderare come è la classica viabilità fra aziende agricole che non ha una classificazione stradale, quindi l'uso prevalente agricolo.